ciao a tutti ciao liberi tv sono morta giuliano in arte martita arte perché faccio l'artista sono una contorsionista da 11 anni e quindi il mio nome d'arte martita e vivo a roma da undici anni e sono originaria della provincia di cuneo un piccolo paese che si chiama villa novetta di verzuolo e mi trovo in questo bellissimo scenario a palmi in calabria per l'illied vertical summer tour 2021 sono faccio parte del cast sono mi occupo delle attività del fitness la mattina risveglio muscolare acqua gym balli e il pomeriggio faccio una performance si chiama transparency show in una bolla gigante dove posso fare le mie evoluzioni ed è notevolmente impressionante perché con sto caldo diciamo che raddoppia la difficoltà della performance e meravigliosa palmi sono veramente rimasta bocca aperta per il mare pazzesco conoscevo già il mare della calabria ma ma non palmi quindi sono molto molto felice di aver fatto parte di questo tour che ci ha permesso di visitare questa città bellissima sono da undici anni in questo ambito cioè faccio parte del mondo dello spettacolo da undici anni quindi inizio a farmi vecchietta e diciamo che il mio lavoro è molto molto vario amo il mio lavoro perché ho la possibilità di spaziare dal tv dalla tv al teatro al cinema agli eventi sportivi a proposito degli eventi sportivi faccio parte della carovana del giro d'italia da esattamente 11 anni ho solamente saltato quella del 2017 perché ero impegnata in un'altra tourne in uno spettacolo teatrale a roma e recentemente ho fatto su su italia 1 sul 6 venus club con l'orella boccia in seconda serata ho fatto parte della carovana del giro anche quest'anno e ora sto intraprendendo questo percorso degli vertical tour che avevo già fatto in versione invernale lo scorso anno prima che ci bloccassero tutti quanti ho fatto parte del corpo di ballo di tale quale show su rai 1 per due annate ho fatto la tourne di rome giulietta dei permessi sposi della divina commedia ecco le tourne teatrali me le sono fatte praticamente tutte e niente mi auguro di avere ancora tante possibilità di fare questo lavoro che amo e di continuare a viaggiare perché sono stato anche parecchio all'estero prima della pandemia sono stato un mese in india per gli edith e birla words sono stata all'inaugurazione della parigi dakar negli emirati arabi a ghedda diciamo che mi sono tolta tante più soddisfazioni di quelle che mai mi sarei aspettata grazie a tutti un abbraccio tutta la calabria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti